In casa New Basket Brindisi prosegue la concentrazione sulla pallacanestro di qualità, quella adatta alla causa biancazzurra e dalla quale attingere per il completamento del roster. In questa ottica e nel proseguimento del lavoro che fino ad oggi ha portato a Brindisi quattro ottimi giocatori italiani e due americani di sicuro rievo, la società di Contrada Masteriola annuncia l'ennesimo colpo di mercato. L'area tecnica ha infatti raggiunto un accordo per la prossima stagione con il giocatore Dejan Borovniak, pivot di nazionalità serba nato nel 1986 ed alto 2,05 metri. Cresciuto cestisticamente nel Partisan e rimasto a Belgrado sino alla fine del campionato 2007-2008. Borovniak si è poi spostato in Lituania nel Lietuvos Ritas Vilnius per raggiungere successivamente al Pagnonios Atene in Grecia. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Aris Salonico sino a marzo con una media punti segnati di 7,7 e rimbalzi conquistati di 4,3. Con il Salonico in Euro Cup ha totalizzato una media di punti pari a 9,6 e di rimbalzi pari a 4,5. Dalla Grecia il giocatore si è poi definitivamente spostato in Spagna nelle file del Gran Canaria. Giocatore di alto livello ha indossato la maglia delle nazionali di Serbia Montenegro Under 18 e Under 20. Non chiede la rappresentativa universitaria. Archiviata la pratica del lungo extracomunitario, la New Basket Brindisi potrà concentrarsi ora sulla ricerca di una guardia americana per la quale ci sarà da attendere buone nuove del fronte internazionale. La scelta da effettuare resta comunque nelle facoltà del trio Puglisi-Giuliani-Bucchi che potrebbero comunque optare per altre soluzioni qualora le circostanze lo richiedessero. Tra le priorità fondamentali richieste ai nuovi giocatori restano comunque la qualità e l'attaccamento alla maglia, marchi di fabbrica della nuova società cestistica Brindisina.